L'anno scorso la Cavese ha raggiunto il ripescaggio dalla Serie D alla Serie C con grande sacrificio economico. La società ha dovuto stanziare il contributo a fondo perduto in favore della Lega Pro, quindi le risorse per poter allestire la rosa dei calciatori erano inferiori a quelle di altre società. In pratica la Cavese aveva un portafoglio più piccolo rispetto a quello a disposizione di club come Catanzaro, Catania e Casertana. Quindi tutto ciò che ha avuto bisogno di fare il club è stato puntare sul gioco collettivo, sull'impegno e sulla benegazione dei giocatori e soprattutto sui metodi di lavoro di mister Giacomo Modica, il quale è uno che punta a far crescere gli atleti. Nella prima parte del campionato, fino alla campagna di rafforzamento di fine gennaio, sono stati realizzati 23 punti in 20 partite. I restanti 24 punti sono stati raggiunti in 16 partite. La media è stata lievemente più alta negli ultimi mesi, ma anche il precedente rapporto punti partite giocate era apprezzabile, se si considera che l'obiettivo iniziale era comunque la salvezza e che giocatori come Sainz Massa e Magrassi da settembre a gennaio non erano della Cavese. Molti giovani si sono allenati con la prima squadra e due prodotti del vivaio, che sono il jolly nunziante e il portiere Bisogno, hanno continuato a far parte della squadra. Ha debuttato in C anche l'attaccante di Pari, che non è proprio un prodotto del vivaio, ma è comunque un classe 2001 che l'anno scorso giocava a Parma. I giovani della Cavese stanno facendo bene anche perché alcuni, tra cui l'attaccante Colantuono, possono vantare delle convocazioni nelle rappresentative under di Rega Pro. E inoltre il terzino Salvatore Romano e il difensore Nicola Schettino, tutti e due del 2003, sono stati convocati per partecipare al terzo torneo della pace che si svolgerà a Perugia a partire dal prossimo 18 maggio. E inoltre l'under 15 della Cavese, allenata da Pianese, sarà di scena alla fine di questa settimana appreggiato con l'entella nei quarti di finale. Il ritorno a Chiavari. I piccoli metelliani ci sono arrivati avendo eliminato il Ponte d'Era dieci giorni fa. Uno sguardo anche agli altri campionati professionistici. Ieri il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha disposto la retrocessione del Palermo dalla Serie B alla C per gravi irregolarità amministrative. Si pensava che ci potesse essere uno scalamento nella classifica finale del campionato cadetto e che quindi ai play-out l'avversaria della Salernitana potesse essere non più il Venezia di mister Cosmi ma il Foggia di Grassadonia. Invece niente di tutto questo. La Lega B, presieduta da Mauro Balata, ha comunicato la decisione del Consiglio di Lega che riconosce il Palermo come quarta retrocessa dopo Foggia, Carpi e Padova. Quindi i play-out non si giocherebbero più. Una decisione che molti tifosi ritengono eccentrica, che di fatto salverebbe le stesse Salernitana e Venezia dalla retrocessione. I prossimi giorni saranno giorni di ricorsi. Ci saranno gli appelli. Grazie. 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 più piccolo rispetto a quello a disposizione di club come Catanzaro, Catania e Casertana. Quindi tutto ciò che ha avuto bisogno di fare il club è stato puntare sul gioco collettivo, sull'impegno e sulla benegazione dei giocatori e soprattutto sui metodi di lavoro di mister Giacomo Modica, il quale è uno che punta a far crescere gli atleti. Nella prima parte del campionato, fino alla campagna di rafforzamento di fine gennaio, sono stati realizzati 23 punti in 20 partite. I restanti 24 punti sono stati raggiunti in 16 partite. La media è stata lievemente più alta negli ultimi mesi, ma anche il precedente rapporto punti-partite giocate era apprezzabile, se si considera che l'obiettivo iniziale era comunque la salvezza e che giocatori come Sainz Massa e Magrassi da settembre a gennaio non erano della Cavese. Molti giovani si sono allenati con la prima squadra e due prodotti del vivaio, che sono il jolly nonziante e il portiere bisogno, hanno continuato a far parte della squadra. Ha debuttato in C anche l'attaccante di Pari, che non è proprio un prodotto del vivaio, ma è comunque un classe 2001 che l'anno scorso giocava a Parma. I giovani della Cavese stanno facendo bene, anche perché alcuni, tra cui l'attaccante Colantuono, possono vantare delle convocazioni nelle rappresentative under di Rega Pro. E inoltre il terzino Salvatore Romano e il difensore Nicola Schettino, tutti e due del 2003, sono stati convocati per partecipare al terzo torneo della pace, che si svolgerà a Perugia a partire dal prossimo 18 maggio. E inoltre l'under 15 della Cavese, allenata da Pianese, sarà di scena alla fine di questa settimana appreggiato con l'entella nei quarti di finale. Il ritorno a Chiavari. I piccoli metelliani ci sono arrivati avendo eliminato il Ponte d'Era dieci giorni fa. Uno sguardo anche agli altri campionati professionistici. Ieri il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha disposto la retrocessione del Palermo dalla Serie B alla C per gravi irregolarità amministrative. Si pensava che ci potesse essere uno scalamento nella classifica finale del campionato cadetto e che quindi ai play-out l'avversaria della Salernitana potesse essere non più il Venezia di mister Cosmi ma il Foggia di Grassadonia. Invece niente di tutto questo. La Lega B, presieduta da Mauro Balata, ha comunicato la decisione del Consiglio di Lega che riconosce il Palermo come quarta retrocessa dopo Foggia, Carpi e Padova. Quindi i play-out non si giocherebbero più. Una decisione che molti tifosi ritengono eccentrica, che di fatto salverebbe le stesse Salernitana e Venezia dalla retrocessione. I prossimi giorni saranno giorni di ricorsi. Ci saranno gli appelli.